Potenta, pa ragazzi, qua Axel, oggi sono Dan Solo e sono qui a presentarvi su un nuovo video che ragazzi è un nuovo video stramastico Perché infatti oggi 23 maggio del 2014 io ho l'onore e ho avuto anche l'occasione di presentarvi in un unico team Tutto il team of the season spagnolo, quindi tutto il team of the season della Liga B E quindi una cosa abbastanza stratattica perché come avevo avuto appunto l'opportunità di provare in un unico team per un certo periodo di tempo Tutto il team inglese, quindi della Premier League, ho avuto anche la stessa possibilità per provare tutto quello spagnolo Dunque tutto quello della Liga BBVA Allora ragazzi, con questa squadra ci ho fatto tre partite, non mi è sembrato affatto male Però se devo essere sincero tra questa e quella della Premier League inglese, preferisco quella inglese Comunque, vanno le senso, andiamo, prima di iniziare vi volevo ricordare di passare da FIFA con se siete interessati a comprare anche di FIFA E adesso, prima di fare un due partite, vi presento un attimo velocemente la squadra In porta abbiamo un curto, ha veramente una bomba, costa solamente 185.000 crediti Se avete i crediti necessari, compratelo assolutamente perché come rapporto qualità-prezzo vi posso assicurare che è molto buono Come due difensivi invece troviamo Sergio Ramos e Godin Tra i due preferisco Sergio Ramos che ogni sua versione mi fa sempre esaltare Adesso infatti non vedo l'ora di provare la sua versione Team of the Year Come terzino sinistra abbiamo Filipe Luis, mentre come terzino destro Juan Fran Tra i due preferisco la grande Filipe Luis Invece, ecco, utilizzo 4-3-3-4 commessi COC perché, diciamo, volevo utilizzare molto assai Cristiano Ronaldo E Gareth Bale Comunque, torniamo a parlare di quello che ti stavo dicendo prima Modric, ragazzi, lui è una bestia L'ho pagato assai perché l'ho pagato 300.000 crediti Però vi posso assicurare che vi divertirete ad usarlo Anche 4 stelle di possibilità che non sono poche Insieme per un centrocampista E poi è un giocatore completissimo 80 di velocità, 80 di tiro, 92 di passaggio 91 di dribbling, 75 di difesa e 70 di colpo di testa Come altro CC invece troviamo Rakitic Che ha 75 di velocità, 91 di tiro, 93 di passaggio e 89 di dribbling Quindi statistiche veramente forti Costa 149.000 crediti Devo dire, lui si è forte ma mi aspettavo qualcosa di più Mi ha spiegato qualcosa di più da lui ma anche da questo giocatore Infatti, ecco qua, Lionel Messi, Team of the Season Che, allora, io avevo provato se vi ricordate la sua versione Team of the Year Che ero riuscito ad aggiudicarmi giocando contro Gabbo E non mi era piaciuta Stessa cosa per questa versione Passiamo invece al trio d'attacco Come alla sinistra troviamo Cristiano Ronaldo, Team of the Season E sarà quello, credo, che andrò a pinkpalare O meglio, è il giocatore che io pinkpalerò Perché infatti, come voi ben sapete Uno di questi giorni, credo domani Andrò a pinkpalare Cristiano Ronaldo, Team of the Year Per Team of the Season, dai Perché? Perché siete stramagici voi Quindi io devo pure fargli qualcosa In cambio, quindi andrò a pinkpalare questo giocatore Comunque, se deve essere sincero Mi aspettavo moltissimo da lui E non mi è piaciuto assai La sua versione Team of the Year, come ho sempre detto È una bomba Però, collegandomi alla review di Hazard Io vi avevo detto E appunto dovrò provare Cristiano Ronaldo, Team of the Season Per poi mettere questi due giocatori a confronto E ragazzi, tra Cristiano Ronaldo, Team of the Season E Hazard, Team of the Season Non c'è storia Hazard, Team of the Season, tutta la vita Come ATT invece troviamo Diego Costa Ragazzi, Diego Costa che ha avuto un upgrade tremendo Addirittura è andato a 90 89 di velocità 92 di tiro 69 di passaggio 88 di ring 63 di difesa E un 88 colpo di testa Punta di sfondamento Veramente ottima Passiamo invece all'ultimo giocatore Come ultimo giocatore Abbiamo Garrett, Bale Team of the Season Appunto che finalmente si trova a destra Quindi si può utilizzare la sua peculiarità Di che qual è praticamente quella che Si trova sulla fascia destra E ha come per dire preferito il mancino In questo modo noi riusciremo ad andare Magari ad accentrarci con il suo dribbling altissimo Perché infatti presenta 92 di dribbling Per poi andare a fare dei tiri ottimi a giro Proprio perché lui è mancino Comunque ragazzi Detto questo Io andrei a cercare una bella partita Primo sfidante di oggi EZ2 Come andiamo a vedere la sua squadra E ragazzi Non ho più la certezza Di vincere sicuramente Perché Allora innanzitutto Come ho già detto Non mi sono trovato così bene Come invece mi ero trovato Utilizzando la squadra inglese Tutta Team of the Season E poi secondariamente Perché ormai non sto più giocando Faccio veramente Cioè gioco solo per registrare Perché infatti la squadra Mi sta ammazzando Mi sta tirando via troppo tempo Comunque questa qua È la squadra veramente buggata Cioè l'attacco Sao Gomez se non sbaglio Quindi Vabbè Noi ci proviamo Dai Diego Costa Vede Ronny E Ronny va E Ronny va E Ronny va Col numero Ronaldo Cristiano Ronaldo Al settimo minuto Ci portiamo già in vantaggio Ma va bene Dai Eh sì Beh sì Eh 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 Ah va bene Dai 2-0 Pensavo fosse fallo Ma non lo è Ma no Oh non lo era Lol Ragazzi Il nostro avversario ha quittato Prima partita vinta Oh ragazzi Messi veramente Non me lo aspettavo così forte Devo dirlo Molto forte O meglio Cioè L'ho provato in queste tre partite Non mi è piaciuto assai Però adesso devo dire che è nettamente migliorato E andiamo con la seconda partita ragazzi Vediamo un po' la squadra del nostro avversario Oh mio dio 4-3-3-4-5 Un falso 9 Oh my god Con un team of the season Quindi non mi sembra affatto male Ma andiamo a giocare 1-2-3 Diego Costa Ci proverà dalla distancia Diego Costa 1-0 Al terzo Secondo minuto Buonissimo Siamo partiti Da Piscitella Oh my god Incredibile Incredibile Diego Costa Sciavolata foggente Cristiano Analdo Tripling secco Cristiano Analdo Legnata E c'è il gol Grandissimo Incredibile Proprio a lui Dai 2-0 Al ventitreesimo Buono Calcio di punizionato Facciamo tirare Messi Così Eh no Se ci mette lì no Ok Eh Eh Madonna Signori Che gol Di Messi Su Puniz Mi sa che il mio primo gol di punizione In un mio video di FIFA 14 Perché ora ho imparato un po' a batterli Che cosa tattica Grandissimo gol No Io voglio rivedermelo Guardate un po' Tac Geniale Geniale E questo quitterà ancora E che bolle E' acquittato anche lui Dai Andiamo a vedere il terzo e ultimo sfidante di oggi E Sì 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 Oh mio Dio 4-1-2-1-2 Della Barclays Premier League Neanche quella tanto buggata Perché questi giocatori alla fine Non sono tanto utilizzati Quindi buona fantasia Se devo essere sincero Ronaldão Ronaldão Li scarta tutti Mamma mia Mamma mia 1-0 2-0 al trentesimo Gol di Cristiano Ronaldo Oh mio Dio Oh mio Dio Diego Costa 2-0 al 42 Ehi dai Al quarantunesimo Mamma mia Calcio champagne ragazzi Beile la velocità Beile la velocità Beile la velocità 3-1 Grande Grande Mamma mia 5-3 Ronaldo Colpo di testa Gol Grandissime partita chiusa 3-3 ragazzi E ragazzi E' finita anche questa partita In poche parole Io la cosa farò Vi dirò Quali giocatori vi consiglio di prendere E quali l'ho Innanzitutto di questo Team of the Season Mi sono piaciuti un macello Vabbè Cristiano Ronaldo E poi devo essere sincero Messi Nelle tre partite Che avevo fatto da solo Diciamo non mi era piaciuto tanto Però in queste tre partite Che appunto ho fatto Virtualmente con voi Mi è piaciuto assai Ma soprattutto consiglio Allora come ho già detto Courtois Poi secondariamente La difesa Quindi Sergio Ramos Godin Veramente forti Filippo e Luis E Modric Quindi Allora ecco Ve li ho detti anche in ordine Quindi migliore Courtois Assolutamente Quindi ragazzi Detto questo Spero che questo video Non vi dico Vi sia piaciuto ovviamente E poi vi sia stato anche un filo utile Comunque domani Cercherò comunque Di caricarvi un altro video Che credo sarà O la recensione Di Cristiano Ronaldo O direttamente il Pink Vale Questo è da vedere Quindi ragazzi Detto questo Io vi saluto Mi raccomando Asciate un mi piace Arriviamo a 3000 per favore E io vi dico Potenta Palazzo Nel prossimo video Bolla Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti